ecco qua ciao a tutti eccoci qua buonasera un po inaspettato lo so però insomma capita a volte un'oretta per fare due riflessioni perché perché si notoriamente non sono né un appassionato di film nel senso che sono spocchiosissime snob me ne piacciono pochissimi quindi li guardo con il contagocce nonostante viva con una persona che invece non li guarda col contagocce me le propone sempre appena fatto dei versi ma voi non li avete sentiti perché nell'altra stanza e la tv men che meno però un caro amico che magari menziono perché magari ascolta magari vuole venire a dire la sua andrea moro che invece ne guarda di più non so quanti però so che andrea riguarda aveva visto questo serial e mi ha detto ma l'hai visto dico no ma guarda l'ha fatto bene vorrei sapere cosa ne pensi l'abbiamo guardato ce lo siamo come dire distribuito in tre serie diverse non abbiamo fatto l'immersione delle sei ore anche perché stando in montagna e volendo andare a dormire un'ora decente per svegliarsi a un'ora non indecente anche se ci svegliamo lo stesso a un'ora indecente campedelli riccardo adesso vedrai che ti racconto tutto perché fa parte delle ragioni per cui ho un'opinione abbastanza forte e credo una valutazione piuttosto fondata poi magari vedremo qualcuno mi darà dei fatti o degli argomenti o mi ricorderà cose che ho scordato che che cambieranno la valutazione dei fatti ma un po lo dubito sono passati 44 anni da allora e non mi sembra si è emerso nulla che passa faccia cambiare la valutazione bene allora il film film è ben fatto ben fatto io poi non faccio critico cinematografico non mi piace dilettarmi in ho letto un po di critico sul film di pseudo critici mamma mia che bassa qualità almeno una volta al tempo dei quaderni piacentini che ha a che fare con bell'occhio bisogna conoscere un po la storia di dove viene la persona sui quaderni piacentini non me lo ricordo più il nome del grande critico goffredo fofi scriveva stupende pezzi di critica letteraria voi sapete che marco bellocchio che è un signore che ha qualche anno è da un piccolo paese del piacentino e da sempre dal piacentino viene una delle grandi riviste storiche intellettuali dell'estrema sinistra italiana riviste su cui il giovane boldrini che ha un passato da molto giovane cominciato per il piccolo si è anche formato ha letto e apprezzato il cinema goffredo fofi era un grande era un signore forse ancora vivo anche se parecchi anni più di me qualcuno vado a controllare se goffredo fofi ancora vivo scriveva ottimi pezzi di critica letteraria al tempo mi sembrano ottimi pezzi anche quelli le loro teorizzazioni sul marxismo la rivoluzione il maoismo poi ma avevo 15 anni 16 anni 17 18 poi messo è vivo perfetto grazie beh mi rallego per un intelligente non c'è nessuna ragione di augurarsi la morte di nessuno anche di quelli con cui non si è d'accordo e bellocchio viene da quel mondo anzi credo scrivesse anche su quaderni comunque il film è ben fatto ripeto io non faccio ci ha divertito mi ha divertito parlo titolo personale no non si parla di buongiorno notte ma di esterno notte quella la versione estesa di buongiorno notte buongiorno notte non l'ho visto da quanto capisco è peggio ma lasciamo stare a by the way può darsi che se ne discuta con adriano venerdì sarà un second round questa sera opinioni valutazioni del tutto personali perché quella vicenda l'ho vissuta ammazzate se l'ho vissuta quegli anni sulla pelle e quindi qualcosa mi ricordo e posso nel film dei personaggi ben fatti l'attore che fa moro è ottimo anche quello fa berlinguer anche se berlinguer appare poco lo fa craxi no craxi era fatto diversamente e parlava diversamente quaderni piacentini si chiamava il giornale una rivista una rivista usciva ogni due mesi una cosa del genere ecco la scelta pessima di tutta concessione alla moda è servillo servillo che fa papa montini proprio andate a vedere papa montini era magretto era immaginato parlava con questa voce un po così non dico stridula ma quasi no andrea moro non è parete cognome moro diffusissimo in italia in tutte le regioni era un uomo incerto pieno di dubbi maritain la filosofia di maritain andate a leggere sapete che ecco come personaggio montini cerca di fargli fare un po il motivo ma non viene fuori proprio montini montini era magro era la fine della vita era un classico di quell'italia chiesa astica degli anni 50 60 70 anche un uomo interessante a modo suo questo suo vivere in conflitto fra il concilio vaticano il suo essere un po tipo reazionario robe strane il secondo vabbè quindi il servillo mi sembra il punto basso poi ci sono troppe lungaggini su alcune cose la rappresentazione ma qui entriamo nel tema non è a caso la rappresentazione del conflitto sociale in italia in quegli anni è letteralmente fumettistica ridicola e ha nulla a che fare con quello che succedeva ma su quello verrebbe fine dell'analisi del film per sé qua film qua tecnica di riproduzione di tecnica mediatica a no sì anche cossiga è piuttosto improbabile no cossiga sarà stato anche bipolare un po contorto ma me lo ricordo perfettamente in quegli anni non era quella specie di vaneggia personaggio che vaneggiava che hanno che hanno descritto che hanno descritto poi ovviamente ma qui di nuovo entriamo nei contenuti c'è una scelta e cioè c'è la scelta di raccontare quella che suppone essere un'interpretazione valida della questione moro attraverso certi angoli e sono tutti angoli romani familiari ed esclude il resto dell'italia tutto quello che succedeva in italia prima e dopo durante soprattutto non c'è non c'è proprio non appare brevissimi piccolissima immagine di lama e basta e questo è una scelta allora qual è la storia che ci racconta bellocchio la racconta bellocchio si incentra sulla persona moro il quale è un moderato pacato razionalissimo devotissimo signore che insegna diritto penale in vista di roma lo vediamo in una lezione che viene aggredito da dei buffi contestatori molto fighi sono tutti fighissimi i rivoluzionari di questo film uno più bello dell'altro giovani vi garantisco che così non era c'era un po di tutto tutti con delle barbe al tempo non si usava così tanto la barba come adesso non era così di moda si c'erano i barbutti non era così di moda e tutti vestiti molto la page e lui moderatamente compra l'uomo del compromesso di moro era un uomo dei compromessi era forse il cauccio l'elastico che teneva insieme in quegli anni la cosa chiamata democrazia cristiana che come tutti sanno era un partito fatto di diecimila correnti diecimila gruppi di interesse ha unito da più o meno per grossa parte un riferimento al cristianesimo alla religione cattolica aveva il supporto della chiesa da sempre in un certo senso stata creata dalla dalla chiesa cattolica attraverso l'azione cattolica la fuci e così via e lui era nel racconto questo uomo moderatissimo a fronte di tutti gli altri perché nella prima apparizione del film c'è lui saggio moderato e gli altri sono una o ben una banda di invasati non ho ben capito chi sia il personaggio barbuto che urla l'assemblea nazionale della democrazia cristiana contro il compromesso storico maico i comunisti e così via non è uno che io ricordi di importante in quegli anni lì non mi ha ricordato nessuna faccia ma magari bell'occhio qualcuno aveva in mente non si capisce chi sia se qualcuno di voi sa chi è il barbuto urlatore dopo il discorso del quale parla amore convince tutti con la sua tranquillità e con il suo parlar complicato ricordiamoci che moro è l'inventore del convergenze parallele in certo senso il maestro di ciriaco de mito almeno ciriaco de mito avrebbe voluto essere la versione tirrenica di aldo moro che veniva che veniva invece dalla puglia più esattamente da m come vediamo si chiama il paese di maglie a un posto che dato conosco bene dove c'è la sua stato dove sono stato più di qualche volta allora racconto di questo uomo mite a fronte di un partito di disgraziati urlatori attaccati al potere le correnti vogliono i posti e così via e poi c'è un'altra figura strana fredda impassibile andreotti che invece l'uomo che fa il governo anche lui superiore agli altri ma non lo è nella forma affabile piena di fede di carità di desiderio di compromesso del moro il quale non si capisce bene se vuole davvero i comunisti al governo perché gli tiene una forza popolare importante o se semplicemente un'altra delle tante mosse tattiche che tira fuori il suo cappello per mantenere il potere saldamente in casa democristiana o no ricordatevi che i comunisti entrano in maggioranza non entrano mai in quel governo non ci fu né un ministro né un sottosegretario né niente alcun di castero o portafoglio o anche senza portafoglio assegnato al partito comunista infatti io c'ero dopo ci torno nella mia versione si suicidò in base a colpa sua con quel governo bene così inizia la storia c'è questo governo che viene l'entrata in campo del partito comunista moro lo vuole alla fine vince lo presiede andreotti e ci sono dei giovani rivoluzionari molto belli no molto belli molto due protagonisti sono la copia faranda morucci non si capisce bene perché la copia faranda morucci venga scelta da bellocchi anzi si capisce ma quella della parte di nuovo critica come rappresentante del gruppo prospero gallinari appare moretti molto poco a belzerani un pochino insomma il grosso del resto delle brigate rossi non si vede l'atmosfera che ci racconta è di un paese sull'orlo della guerra civile dove queste manifestazioni di massa popolari il popolo insorge contro il capitalismo e la democrazia cristiana assaltano le armerie c'è la scena dell'assalto della san maria di via giulia che avvenne un anno e passa prima di quanto racconta il film andate a verificare e nel quale si rubarono fondamentalmente fucile a caccia e canne da pesca non risulta che io ricordi che venga rubata lì qualche pistola ma non importa le pistole avevano cominciato a giocare c'era la pittra e torta di brigate rosse c'erano e venivano da avevano ormai svariati anni di esistenza e avevano colpito e ucciso già bene in questo atmosfera moro viene rapito la scena del rapimento piuttosto realistica sembro san michele vabbè stasera avete san michele non so cosa facci la luce è lì e non la posso certo eliminato ve la basso un po siete contenti e inizia quella che chiaramente la sua via crucis tra l'altro siamo nel periodo pasquale ed è la sua via crucis quelli che lo rapiscono ammazzano brutalmente ma nel film non vediamo la brutalità dell'uccisione di queste povere guardie di scorta che vengono impreparate chiaramente vengono vengono massacrate dai rivoluzionari e vediamo la scena straziante che venne per davvero della moglie di uno di loro che si getta sulla bara al funerale e non vediamo quello che succede nella prigione del popolo quindi non vediamo il film non interpreta non ci dà la spropria versione dell'interrogatorio il film ci dà la propria versione versione bellocchio la visione bellocchio di tante cose private che ovviamente non corrispondono al vero o che se corrispondono al vero lo fanno per caso perché non è che bellocchio potesse sapere i colloqui privati fra Cossiga e il consulente americano su cui tornerò fra Cossiga Andreotti o quello che Cossiga dice alla moglie o quello che nella famiglia Moro madre e figli si dicono e così via no sono ovviamente creazioni artistiche però c'è una creazione artistica sceglie di non raccontarci non dice assolutamente niente delle condizioni di vita il trattamento la pressione del prigioniero del prigioniero non vediamo nulla se non verso la fine non vediamo nulla non vediamo nulla però vediamo l'interpretazione l'interpretazione quasi il prigioniero diventa il cristo riferimenti la croce paolo sesto che con lui si identifica sceglie una croce che vorrebbe portare lui per il venerdì santo alla via croce del venerdì santo per ricordare l'amico dunque sappiate che i due erano amici per davvero a misura in cui si può essere amici amico di un papa però si può essere amici del responsabile nazionale ecclesiastico della FUCI la FUCI è la federazione universitaria cattolici italiani universitari cattolici italiani io non ne ho fatto parte ma l'ho conosciuta i miei migliori amici teologo grande teologo romano è stato il responsabile per venezia il veneto della FUCI insomma non c'è niente di strano ed è uno a cui mi comporto da amico quindi non c'è niente di strano che moro e il papa fossero stati amici quando bottini non era ancora il grande cardinale poi il papa e quindi è ragionevole che ci sia e c'era è plateale questa è la cosa vera che tutti ricordano un coinvolgimento emozionale di montini nella cosa ma il punto è che il film ci racconta di una via crucis in cui moro diventa il cristo e la trama è semplice alla fine al di là degli aspetti personali su cui non voglio entrare poi il dramma ecco una cosa che evito di commentare non commenterò assolutamente è il dramma della famiglia quello che si sta zitti e basta la stiamo agli aspetti pubblici politici e il punto qual è il punto è che nel film ci racconta di un moro che non si vede ma soffre e dà sulle spalle tutte le responsabilità del mal governo democristiano gli altri gli altri gli altri democristiani tutti sono dei gufi dei corvi degli avoltoi dei mostri vestiti di nero interessati solo al potere sotto segretariati e i voti che portano e immediatamente convinti che moro va lasciato morire questo ci viene raccontato nel film in nome di un astratto come dire protezione dello stato senso dello stato la chiave di tutto questo è andrea otti compare poco berlinguer compare poco il partito messo compare poco craxi anche qui vedrete poi racconterò grossa omissione e andrea otti diventa il perno di questa operazione c'è un cossiga strano diviso che però vuole fare il super poliziotto scopriremo anni dopo che poi si era l'uomo degli americani della cia in italia nel senso dire referente politico no stay behind ce lo racconta lui poi da presidente arriva questo strano consulente americano che dice si fa così sono esperto e non si capisce bene che ruolo svolge vero giustissimo video manca anche almirante manca manca ma manca la classe operaia mancano questo lo racconterò dopo manca quello che succede in italia si vede solo ciò che succede nei palazzi romani anzi si vede un sotto insieme scelto da bellocchio ciò che succede il racconto di bellocchio dice questo nei palazzi romani una serie di corvi sciacalli iene e gufi vestiti di nero orrendi e falsi decidono che questo uomo va immolato e questo uomo è buono all'improvviso questo uomo diventa buono diventa il cristo sacrificale è un uomo buono si assume su di sé le colpe del mondo e così tutto si svolge ma la famiglia detto non ho voglia di entrarci forse quella la parte migliore del film che è vera ma allora bisogna fare un altro film e alla fine l'uomo viene sacrificato sono un po di colpi di scena c'è la storia del finto riscatto in cui il vaticano rischia di cadere no di questi truffatori lago della duchessa c'è non so se intenzionale ma questa sì lo trovo corrispondente l'evidenza storica c'è l'enorme incapacità inefficienza arroganza dei servizi di sicurezza della polizia dell'apparato militare dello stato italiano totalmente incapace di far qualsiasi cosa la famosa storia dell'appartamento dove stavano a morucci e faranda che si seppe già allora poco dopo no alla quale vanno e questi cretini perché non so come definirlo no invece di metterci un piantone questi non ci sono te l'hanno riportato se c'è l'informatore che ti ha detto c'era la storia di questa coppia no che stava per se stessa c'è perfetto coppia di brigatisti rossi non gli fanno neanche identikit tra l'altro conoscevano morucci e faranda avevano gli identikit bastava chiedere ai vicini no farmi identikit ma guardi adesso le mostro delle foto assomigliano a questi no tutto credibile io me la ricordo non è che sia che migliorata molto a mio avviso l'apparato repressivo dello stato italiano però a questo c'è e in questa totale impotenza ridicola dello stato i grandi rivoluzionari si contorcono lei anche piange perché molto umana sono belli però lo fanno fuori ma lo fanno fuori perché è il corvo democrazia cristiana che lo vuole e così si chiude il tutto quindi la storia è la storia fondamentalmente di un uomo buono che viene immolato da una banda di corvi a fronte di cosa di una specie di roba che sembra essere motivata da un'insurrezione popolare questa è la storia questa è la storia che ci racconta bell'occhio ora che dire a mio avviso una sequenza di balle è che bisogna stare attenti possiamo stare ripeto ti rapiscono il padre il marito il nonno qualsiasi sia il padre il marito il nonno a cui tu vuoi bene con cui vivi ovviamente e poi te lo ammazzano e poi ti ricattano e poi passi quasi due mesi no abbiamo il troll ditemi che il troll che poi lo baniamo subito è chiaro che tu entri un dramma infinito su cui io non voglio dire nulla direi che la famiglia moro alla fine tutta questa cosa sia comportata con estrema dignità al di là di qualche sbavatura perfettamente umana perfettamente comprensibile questo punto idem per aldo moro l'aldomoro prigioniero è un uomo prigioniero un sessantenne poco più sessantenne potente abituato a vivere da professore universitario che si trova in lì a dei disgraziati che lo torturano psicologicamente che lo privano della libertà lo bendano lo portano non so se lo menano o no ma gli hanno appena ammazzato 45 uomini con il quattro uomini di scorta insomma la violenza piuttosto notevole questo passa due minuti un minuto e mezzo nella macchina con colpi di mitraglietta a tutti i lati in cui vede morire gente conquistava assieme con i cervelli spappolati quindi terrorizzato e l'uomo è un uomo che ovviamente non vuole morire quindi dal suo punto di vista cerca ogni compromesso possibile questo aspetto del tutto del tutto credibile sì certo certo nel racconto nella versione di di bellocchio questo uomo diventa il capo espiatorio e a farlo diventare capo espiatorio è la democrazia cristiana ora capite e questo è il punto accende che vi dica quello che sapete già io della democrazia cristiana penso tutto il male possibile ok però penso un male storico della democrazia cristiana non era pinochet non era punti non era mussolino la mia grazia cristiana non era nemmeno berlusconi ha governato molto meglio il berlusconi capiamoci il complesso della democrazia cristiana quei 40 anni tra il 46 e il 92 46 anni in cui sono stati al potere ha prodotto atti di governo infinitamente migliori di quelle signor silvio berlusconi capiamoci ha fatti anche di orrendi ripeto io non stavo con la democrazia cristiana in quegli anni sono gli anni in cui dopo aver fatto il cattolico di sinistra questo quell'altro il leader movimento studentesco cane sciolto ho passato tre anni a fare il dirigente della federazione giovanile comunista italiana e quindi la magrazia cristiana in quegli anni non mi piaceva proprio infatti non ero dell'opinione una delle ragioni per cui mollai il pc lo stavo già mollando nel 78 quando avvenne la cosa era che io trovavo l'idea del compromesso storico l'intera visione che berlinguer gruppo dirigente del pc aveva su quello che c'era da fare in italia per migliorare il paese completamente erronea completamente erronea perché completamente scopiazzata da una mala interpretazione di quello che era accaduto in cile e cioè l'idea che qualsiasi avvicinamento democratico al potere da parte di un partito comunista anche in versione socialdemocratica perché ormai il pc era stabilmente avviato a diventare un partito socialdemocratico sarebbe stato colpito dagli americani con un colpo di stato a mio avviso interpretazione del tutto erronea che non capiva quello che era la situazione cilena e soprattutto non capire pinochet prima di essere un prodotto della cia è un prodotto cileno cioè della borghesia cilena dell'apparato dello stato cileno dell'arico a cui la cia ha dato ma ovviamente una mano ma l'iniziativa è venuta da pinochet non dalla cia ma lasciamo stare il punto è come poi dimostrò pochissimo dopo felipe gonzalez andando tranquillamente al potere in spagna nel 1982 senza che gli americani la cia dicessero neanche blink o mitran pochi anni dopo in francia berlinguer aveva fondamentalmente torto non aveva capito un cazzo della della mutazione e anche di qual era la politica estera americana rispetto all'europa la sinistra europea in quegli anni in che senso era mutata rispetto agli anni 40 50 e 60 a perché ripeto felipe gonzalez va al potere su un programma molto di sinistra a in spagna nell'ottantadue e mitran ci va non mi ricordo più quando ma prima ok quindi lasciamo teniamoci questo in mente tutto questo per dire cosa che non ho particolare predisposizione e la mia posizione personale di parecchi amici fra cui adriano il tempo e anche del professor cacciari del tempo era che si stava l'opposizione che non c'era la guerra civile che non è vero che le brigate rosse l'autonomia avevano il sostegno delle masse le masse operai nelle quali io vivevo con le quali vivevo all'autonomia le brigate rosse volevano fare solo una cosa questa un culo così che nel quartiere totalmente operaio proletario dove io crescevo due amici sono finiti in brigate rosse ci hanno anche rimesso la pelle ma la me e so benissimo quello che tutti noi pensavamo erano infatti non due operai a uno faceva faceva entrambi parrucchieri poi alla fine anche lei una coppia erano due sbandati ma niente a che fare con le lotte operaie classico reclutamento brigate rosse ultima fase ripeto il rapporto fra la cosiddetta classe operaia ma anche l'autonomia quelli toni negri che era l'acqua in cui il pesce negri piperno questi qua in cui il pesci delle brigate rosse cercavano di nuotare era un rapporto di assoluta totale ostilità c'era alcun rischio di alcuna insurrezione sociale c'era un piccolo gruppetto di folli a che andava represso che venne represso ma la mente che non fu represso bene fondamentalmente perché l'apparato militare lo stato era incapace era violento e inefficace e non sapeva fare il suo lavoro come la vicenda moro mostra questo anzitutto per quanto riguarda le brigate rosse e l'autonomia perché c'era purtroppo e questo sì una forte tolleranza dei comportamenti dell'autonomia in certe città d'italia in funzione antipartito comunista in particolare nelle zone del veneto a padova non solo anche a roma e così ok no rigate loro si entrano con la pc tanto quanto io centro con la città del vaticano questa era la situazione al momento e questo non ce lo racconta dell'occhio cioè non ci racconta che nel 77 78 lotte sindacali operaie c'erano neanche particolarmente accese le fasi di grande forte scontro sociale sul salario era finito da un pezzo 69 70 71 72 dopo il 74 referendum sul divorzio 75 vittoria il partito comunista alle elezioni locali regionali le prime elezioni regionali prima vere elezioni regionali 76 elezioni politiche fa pari e patta praticamente con la democrazia cristiana l'intensità dello scontro sociale vero si era molto attenuato c'era un problema c'era un problema di rispondere a quelle istanze facendo riforme serie cose che la democrazia cristiana era incapace di fare questo tutto un altro capitolo su cui giovanni federico io da anni ci ripromettiamo di tornare anche sediamente non ci torniamo mai e e non quelle riforme che dovevano affrontare un incapace di farla grande enorme limite della democrazia cristiana e di tutti i partiti che stavano attorno psi psdi pri pli era che non avevano capito un cazzo della crisi socio economica italiana di quello che stava succedendo nel mondo post crisi petrolio petrolifero 74 poi arrivo quello 79 del fatto che poco dopo ma le risaglie c'erano in cina le cose sarebbero cambiate e deng avrebbe dato inizio le riforme cinesi il processo di globalizzazione a modo suo era già in corso i computer erano arrivati e via 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 tutto completamente oscuro ma tutto questo nel film non c'è anche perché tutto questo con le brigate rosse non aveva un cazzo a che fare le brigate rosse era un residuo un colpo di codo un avanzo delle lotte studentesche dei fanatismi qui anch'io sono cresciuto ne sono stato vittima quindi per questo ne parlo non mi ricordo l'atmosfera di quando avevo 13 14 anni il tipo di argomenti che giravano in un certo mondo inizialmente cattolico borghese poi con qualche piccola frangia di partito comunista veramente pochi cioè prospero gallinari qualche altro franceschini credo ma totalmente lontano anzi esecrato odiato su quello va dato atto ai comunisti nella loro arretratezza e nella loro confusione avevano orrore della violenza dell'insurrezionismo dei mitra degli slogan delle puttanate su la conquista del potere per mezzo della lotta armata che dal 69 70 fino poi all'ottanta con questa cosa finì caratterizzò un certo un piccolo mondo del tutto legato ambienti intellettuali borghesi universitari italiani con piccole presenze sporadiche nelle fabbriche ma del tutto simboliche che poi non portarono a nulla il petrochimico di marghera c'era forse un piccolo nucleo qua e là quelle che ammazzarono rossa ma alla fiat un piccolo nucleo ma era simbolismo quattro gatti ok esatto questo era il vero contesto sociale questo contesto sociale nel film non c'è nel film sembra che il paese sia sull'orlo del collasso il paese non era per niente per niente sull'orlo del collasso per niente c'era una violenza organizzata quella dell'autonomia dentro la quale guidata da negri da scalzone da piperno da pace anche lì c'è un signore un po' robusto che a un certo momento appare parla con quelli delle brigate rosse li conosce finché sono in macchina ed è un progetto piperno pace direi pace dalla stazza ma c'è gente che veniva dal mondo di questo mondo di pseudo rivoluzionari romani da qui e poi erano usciti morucci e faranda che all'inizio stavano con lui e che faceva da tramite alla quale si agganciò craxi per farla parte del trattativista ora voi capite in questa atmosfera questi rappresentano l'assoluto nulla era una pura violenza e qui occorre il saper separare di fronte c'era una coalizione di governo al centro il partito dell'organizzazione completamente incapace di capire le dinamiche sociali in atto nel paese certamente ma le dinamiche sociali in atto nel paese non le rappresentavano le br era esattamente l'opposto le br erano lontanissime era ancora più lontane della democrazia cristiana del psd dalle dinamiche sociali quel paese dove loro puttanate non avevano nulla a che fare con nulla con assolutamente nulla nemmeno con quello di cui si discuteva nei quartieri degli operai puri e duri nei quali quartieri non si discuteva delle cretinate delle br si discuteva di come fare a meno le br di come denunciarli di come toglierli di mezzo di come porre fine alla follia ma non di solidarizzare con questi quattro tementi questo guardate palea papale papale per cui il racconto che ci fa bell'occhio è completamente inventato è un racconto di borghesia di sinistra estrema connivente partecipante simpatizzante con quella visione folle della lotta di classe che ce la racconta dal punto di vista del potere romano e in cui decide che esiste solo un cattivo la democrazia cristiana invece no e che all'interno di questo mondo di cattivi ce n'è uno buono aldo moro ora davvero è difficile parlare e dire cose negative su una persona non solo morta tempo ma morta in quella maniera assassinata così brutalmente amoro era un altro democristiano non era né buono né cattivo non era né particolarmente buono né particolarmente cattivo era un dirigente della democrazia cristiana era un altissimo dirigente della democrazia cristiana mio padre era al tempo si definiva moroteo altro moro era un altro dirigente della democrazia cristiano come amintore fanfani come giulio andreotti come al tempo flaminio piccoli emilio colombo leone che avevano deciso loro di mettere la presidenza repubblica non era uno estraneo il mutamento di prospettiva del basata sul dramma personale che moro vive non è un mutamento di prospettiva politica non è che moro nelle sue lettere dice abbiamo sbagliato tutto dovevamo fare la rivoluzione socialista gli accordi che ho fatto con questo con quelli l'alleanza con gli stati uniti la scelta di campo la comunità economica europea il nostro opporsi al divorzio il nostro opporsi all'aborto e via andando sono stati errori non dice nulla di tutto questo ma giustamente povero uomo perché deve dirlo è la sua vita cioè quello che lui ha fatto era tanto responsabile degli atti di governo della democrazia cristiana gli ultimi vent'anni da quando era diventato persona importante dentro il partito quanto giulio andreotti anzi di più forse o quanto amintore fanfani o quanto mariano rumore o se metteva davanti con l'elenco che me le ricordo tutti che purtroppo messo in quelle condizioni di fatto torturato perlomeno psicologicamente terrorizzato minacciato di morte una morte che capiva se non un uomo intelligente sarebbe forse arrivata l'ascoltato fosse disposto a tutto pur di salvarsi perfettamente comprensibile perfettamente comprensibile non è quello che vuoi giudicare infatti quello non vuoi neanche usare ed è questo che il film fa usa il dramma personale di un essere umano terrorizzato per inventarsi un processo politico processo politico a chi è una specie di roba indifferenziata vestita di nero col daso adunco che si chiama democrazia cristiana perché perché il psi che aveva governato con la democrazia cristiana da tempo quanti erano 16 anni 17 forse non era correo del mal governo e poi il mal governo della democrazia cristiana è il male assoluto o è il mal governo della democrazia cristiana è il capitalismo delle multinazionali o è quella roba mischiotto molto poco capitalista molto poco liberista che è stata l'italia di quegli anni la governata democrazia cristiana psdi pri pli no capito il punto puoi utilizzare il dramma di un essere umano torturato sequestrato e poi ucciso per inventarti un processo politico non puoi e non puoi neanche inventarti che la scelta di non trattare con le br sia stata una scelta criminale decisa perché bisogna far fare i mori perché è questo che il film suggerisce questo è fuori la scelta di non trattare con le br era al tempo condivisa dalla grande maggioranza non solo forse politica di cittadini italiani della classe per a in primis nelle fabbriche non c'era dubbio alcuno proprio guardate tranquilli tranquilli un mio amico che nel quartiere popolare dove vivevo che aveva simpatie idiote al tempo rischiò di prendere una valanga di botte dovemmo proteggere dalla gente il quartiere perché cominciava perché durante il periodo sequestro no ricordi walter cabianca lavorare stanca te sbatto su una panca rischio di prendere una valanga di botte dagli operai porto marghera mica da più di qualcuno li prese su questo ci sono anche storie personali addirittura con relatives che meglio che ometta però credetemi il giochetto della trattativa né con lo stato né con le br fu un'invenzione della assolita intelligenza la stessa che oggi vuole stare né con l'ucraina né con putti c'è una continuità fra quelli di né con lo stato né con le br manifesto rossanda e così via e quelli di né con l'ucraina né con putti non solo alcuni sono gli stessi scommetto che il toni quello lì che era di lotta continua e che ha lavorato ha fatto carriera e soldi lavorando per berlusconi toni come cazzo si chiama quello che doveva di battere come aveva scappato negazionista di buccia al tempo stava né con lo stato né con le br come si chiama quello di rete 4 come si chiama susana toni il friulano capuozzo grazie grazie a iva esatto quanto non lo so ma sono disposto a scommetterci qualcuno vado a verificare sì larry de luca esatto e su questo davvero pescecane il vero pescecane che era bettino craxi alla ricerca disperata di un ruolo per il suo partito che aveva preso in mano nel 76 dopo che di fronte alla grande avanzata della sinistra il psi era rimasto un po al palo aveva guadagnato un po ma molto poco lui fece l'assalto a raffaele con i giovani brillanti luide michelis signorile cicchito cacciò i vecchi marpioni e martino a compagnia mancini che era furbetto legato a piperno a stretta in banda e craxi per inventarsi un ruolo autonomo da dc e pc si inventò che lui era per la trattativa ma era banale che la trattativa pensate che trattativa vuoi fare con una banda di criminali sderenati che dicono che loro sono l'esercito del proletariato e vogliono un riconoscimento politico per quanto tu sia uno stato scalcagnato e l'italia di allora lo era come lo è per quanto tu abbia delle forze dell'ordine assolutamente incompetenti inefficaci per quanto e lo dicono i tuoi prefetti i tuoi generali che vengono convocati da consiglia siano appunto degli incompetenti un po fascistoidi residui del regime massonico per quanto sia tutto quella roba che roma è ok comunque tu non puoi decidere non puoi accettare un ricatto del genere in cui una banda di piccoli criminali assettati di sangue con la testa fuori diventa viene riconosciuta come controparte dello stato democratico con il quale cosa dichiara che c'è la guerra civile in corso perché 40 delinquenti si sono messi a sparare sulle gambe di poveri professori che escono da casa giornalisti e operai per favore certo che le BR erano pericolose erano pericolose nel senso che erano pericolose perché colpivano esseri umani e facevano male a esseri umani e li ammazzavano ammazzarono un caro commissario di pulizia mestrino col quale avevo trattato in tutti quegli anni precedenti decine di manifestazioni la persona per bene lo ammazzarono erano dei delinquenti vigliacchi che ammazzavano le persone esposte ma non erano l'esercito rivoluzionario non è una contraparte politica non erano appunto e questi volevano che tu dichiarassi che c'era la guerra civile ma quale guerra civile la guerra civile erano i loro fumi folli si montanelli venne gambezzato eccetera capito caccia festa che sta andando a sparare a remo caccia festa che ha presa la facoltà di economia suppongo sia stato un antesegnato nel neoliberismo il povero caccia festa credo facesse accounting una roba del genere capito c'era una dimensione folle c'era un pezzettino piccolo piccolissimo di società italiana che era impazzito su furori ideologici che aveva forti connivenze dentro l'ambiente intellettuale universitario e pubblicistico che ce li ha tuttora e che si era inventato che loro facevano la rivoluzione proletaria il nome di chi delle masse proletarie le quelle masse proletarie volevano solo bastonarli questa è la realtà e quindi è ovvio che di fronte a quella realtà non è tanto una banda di corvi che vuole uccidere moro ma che è ovvio che gli dici no con voi non tratto voi non siete l'esercito rivoluzionario punto fine punto fine qui sta il grande stravolgimento della realtà storica che fa il film inventa un santo che santo non era un bravo uomo un uomo vittima disgraziato povero mi piace mi piaceva allora assolutamente coinvolto passato qui settimane lasciamo stare non era un santo era un uomo dell'immagrazione di stanza era un governante un uomo di governo con responsabili accogliati delle scelte che avevano fatto anzi ero uno che ci teneva a tenere tutti insieme facendo tutti gli impossibili compromessi era famoso per essere l'uomo dei compromessi del cauccio qui sta il vero falso che c'è nel film film è l'interpretazione il voler raccontare una specie di parabola religioso purificatrice nel quale ci sono degli idealisti sia un po criminali ma idealisti bravi ragazzi una banda di orrendi gufi e uno che diventa santo perché i gufi lo vogliono sacrificare per pulire se stessi cosa che poi non successe perché il conflitto sociale continuò poi ci fu gli anni 80 in cui governò tutto un altro pezzo di democrazia cristiana tra l'altro governò fondamentalmente craxi e poi finì come sappiamo 14 anni dopo con mani pulite questo lo sapete purificò proprio niente purificò assolutamente niente niente lavò nulla nessuno si scordò di nulla ed infine c'è questa cosa ambigua ma quella vorrei capire meglio quindi mi taccio c'è questo suggerimento nel film se l'avete visto appare questo americano consulente di adriano maggio abbiamo c'è questo consulente americano mia lettura che il film vuole suggerire che l'unione americano è lì a garantirsi dicendo che seguendo le sue indicazioni verrà liberato garantirsi invece che venga ucciso perché gli americani vogliono che moro venga ucciso perché l'uomo del compromesso storico cosa tra l'altro falsa perché quel poco che durò il compromesso storico durò molto venne rafforzato dall'omicidio moro non venne indebollito e non c'è assolutamente nessuna evidenza che così sia stato però chiaramente il film lo vuole lo vuole suggerirsi il consulente di così ecco questa è la mia reazione del film film ben fatto abbastanza decente con alcune scelte di interpreti a mio avviso inadeguate con un ritratto della situazione sociale a pessimo con i pezzi migliori quelli sulla famiglia pezzi peggiori probabilmente a parte quelli che ho detti quelli sul papa interpretato dalla persona non c'entra niente col papa non lo sa rendere le contorsioni i dubbi di montini il problema vero nel contenuto la storia che racconta la versione di ciò che è accaduto in quei due mesi e torno a quei due mesi in quegli anni è assolutamente falsa assolutamente falsa o meglio è la versione di un certo punto di vista di quelle che sotto sotto non stavano né con lo stato né con le br perché avrebbero voluto stare con le br se solo solo le br avessero ammazzato un po meno o un po più attentamente perché questa era la posizione non lo so se questa è l'opinione di bell'occhio però devo dire che aver dare il film temo lo sia magari mi sbaglio mi auguro di sbagliarmi ma il film mi ricorda appunto un punto di vista né con lo stato con le br e poi c'è la parte chiamiamo l'artistica l'invenzione del novello cristo del re ne giro appunto il capo respiatori che proprio non ha alcun senso moro non fu nemmeno un capo respiatori fu una vittima fu una vittima di una banda criminale che purtroppo lo stato italiano non era riuscito a sconfiggere e tardò un altro anno e mezzo a sconfiggere grazie e lo dobbiamo lui all'arrivo del generale dalla chiesa il quale aveva metodi investigativi alti da quelli degli incapaci e riuscì in un tempo ragionevolmente breve a mettere fine all'azione di questa gente era un problema di polizia era un problema di polizia e non di politica purtroppo il sistema di polizia italiano non funzionava bene divenne un problema politico a causa delle inefficienze delle incapacità del sistema italiano di polizia questo è la vera storia da raccontare di come un problema di polizia è diventato un problema politico per l'inefficienza dello stato da un lato e per le simpatie che godevano gli organi di stampa è una fetta grande l'intelligenza romana in particolare allora e che ancora evidentemente godono come questo film ci suggerisce quello che avevo da dire l'ho detto e mi fermo qua a volevo dirlo cerriamo ne ha voglia venerdì su qui ce ne parliamo perché anche lui l'ha vissuto questa cosa bene che altro vi ringrazio per l'attenzione mille persone quest'ora di notte ascoltare bold rings proloquia su quegli anni no non dico nient'altro perché tardi e poi magari rischio di portare gli argomenti più storici più documentati che magari adriano a voglia di discutere questa è una reazione del tutto personale quindi vi auguro una buona serata e grazie per l'attenzione baci ciao ciao grazie